Italia Azzurro 4, Vittor Quebec, Sierra Roger, stazione QRP, stazione QRP 5 Watt, 5 Watt la mia potenza, il tuo rapporto 5, 9, 5, 9 più 10, se hai un indirizzo mail valido ti giro il video, QSL Roger, ti ringrazio, ti invio il filmato, lo metto su Youtube, QSL certamente, cerca su Youtube, il mio indicativo lo trovi subito, grazie ancora, ciao ciao, alla prossima, io sono buonasera, ho il saluto dal canton vicino, 1,9, 3,9, 4, Vittoria, 1,2, Ligio, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 10, 7, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13